Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Dopo anni di assenza dalle scene, emerge la verità su Pamela Petrarolo. La diagnosi ha minato l'equilibrio della Showgirl. Il programma che più ha caratterizzato gli anni 90 è stato certamente il varietà targato Boncompagni, non è la Rai. Lo show pomeridiano permetteva a numerose giovani ragazze di spiccare dall'anonimato, intrattenendo il pubblico con balletti, performance canore e quiz. E tra di esse anche Pamela Petrarolo ha guadagnato ampia notorietà. Acerrima rivale dell'esplosiva Ambra Angiolini, la Showgirl ha abbandonato le scene in seguito alla soppressione del format, eccezione fatta per una recente partecipazione al reality, l'Isola dei Famosi. All'età di 46 anni, Pamela Petrarolo è reduce da un lungo matrimonio con Gianluca Pea, cui è rimasta legata dal 2001 anno del matrimonio fino al divorzio nel 2017. La relazione ha regalato i Natali alle figlie Alice ed Angelica. E la coppia ha infine optato per una separazione serena e consensuale. Attualmente impegnata con Giovanni Benevento, di 10 anni più giovane, Pamela ha dato alla luce nel 2020 l'ultimo genita futura. Ed ha così descritto la sua precedente deba col romantica. L'amore può finire, ma l'essere genitori no. Oggi sono fidanzata con Giovanni. Abbiamo 10 anni di differenza e, nonostante la paura iniziale di sbagliare di nuovo, sono contenta di averci provato ancora. Pamela Petrarolo e la malattia della figlia Angelica. La showgirl ha rivelato al settimanale Spy, un retroscena della sua vita privata che l'ha tenuta sulle spine per molto tempo. Ovvero la patologia della figlia Angelica. Angelica, che ha due anni, è nata con una malformazione congenita alla testa, ha riferito. Nessuno se n'era mai accorto. Poi, il sesto senso materno mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava e, di lì a poco, è stata operata d'urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo perché, se non me ne fossi accorta, avrebbe rischiato di morire nel sonno. Pamela Petrarolo ha poi precisato. Ora sta bene. Viene monitorata ogni 6-9 mesi. Ma il pericolo è scampato e io, Angelica, Alice che ha 15 anni e il loro papà, siamo tutti più sereni. L'ultima apparizione di Pamela Petrarolo sul piccolo schermo risale al 2022. Anno in cui ha presenziato tra le fila di naufraghi sull'Atollo Onduregno. In merito ad un'eventuale partecipazione al GFVIP. Ha sentenziato. Mi è stato proposto. Prima che andassi a. L'Isola dei Famosi. Avevo partorito da 4 mesi e non ce l'ho fatta. Mi piacerebbe molto. Però. Partecipare a. Pechino Express. Mi divertirebbe molto fare quest'esperienza con Estefania. Bernal. N. D. R. E poi il mio sogno rimane il. Tale e quale show. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.